Una targa allo stadio San Paolo ricorda Roberto Fiore, presidente del calcio Napoli dal 1964 al 1967. Il presidente Fiore portò alla squadra calciatori del rango di Omar Sivori, José Altafini, Faustinio Canè e Antonio Iuliano. Quel Napoli raccolse 69.000 abbonati. Abbiamo vinto pochino, però più o meno come Sarri, la gente andava a casa felice perché principalmente con le grandi squadre facevamo sempre dei bei risultati qui a San Paolo. I grandi erano Sivori, Altafini, poi c'avevamo il grande Iuliano che è diventato grande quello che potrebbe diventare Insigne perché tecnicamente è superiore, Montefusco è qui adesso con me, poi c'era il Panzanato, Buonanima, che ci ha lasciato quest'anno, ma c'era un sacco di gente che io ce l'ho tutta, tutti come ricordo. Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte giornalisti, calciatori, tecnici e tifosi. Uno sportivo che ha dedicato la sua vita al nostro mondo, al mondo del calcio, al mondo dello sport e anche della palla a nuoto. Quindi un doveroso ricordo e oggi ringrazio coloro i quali hanno organizzato questa manifestazione per ricordare Roberto Fiore. L'iniziativa in memoria di Roberto Fiore è nata da una proposta del giornalista Marcello Pelillo con l'adesione del Comune di Napoli e la sezione campana dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Quelli erano anni in cui si combatteva veramente, però era un Napoli che stava in Serie A, era l'unica realtà del sud che contrastava le corazzare del nord, quindi era veramente quel sentimento di rivalsa nei confronti di quelle squadre che non ti lasciavano niente, quindi noi lottavamo. È un uomo di sport Roberto Fiore, non soltanto di calcio, di palla a nuoto, è stato presidente di una polisportiva come il Circolo Posillipo, quindi veramente tanto ha dato allo sport napoletano e poi oggi lo ricordiamo all'interno del suo stadio. No, questo è stato lo stadio dove il Napoli ha giocato Napoli-Juventus nella prima gara ufficiale nel nuovo stadio, lui era presidente, quindi c'era veramente tanta, tanta passione. In un luogo abbiamo messo la targa anche in un posto dove lui spesso pare che vedeva la partita, quindi non amava proprio la tribuna d'onore ma amava stare tra la gente. è giusto dedicargli questo riconoscimento a un vero uomo appassionato del calcio e non soltanto.